in questi giorni si discetta tantissimo sul rinnovo delle concessioni autostradali in particolare di quelle che sono già ampiamente scadute tipo autobrennero e anche autovie venete cari amici vicini lontani bentornati questa puntata dello schiacciassassi da parte di stefano elena e se starete con noi fino alla fine della puntata vedrete anche come la nostro domenico la cava con la sua irreverente matita interpreta a modo suo tutta la vicenda dicevamo di concessioni autostradali l'italia è uno strano paese perché ha sempre portato avanti la costruzione delle infrastrutture soprattutto di quelli più importanti come le autostrade ricorrendo all'aiuto dei privati dando a loro la concessione della realizzazione di una determinata infrastruttura potendola gestire per un determinato numero di anni normalmente 30 anni teoricamente alla fine della concessione l'opera pubblica così realizzata perché l'opera rimane sempre comunque di proprietà dell'ente concedente che è lo stato avrebbe dovuto ritornare direttamente all'interno della disponibilità dello stato il quale sarebbe diventato oltre che proprietario anche il gestore altrove come la spagna che ha utilizzato lo stesso sistema italiano delle concessioni quando le concessioni sono giunte al termine le strade tornano a essere libere privi di qualsiasi pedaggio e negli ultimi tre anni ben 1100 chilometri di rete autostradale è stata liberalizzata in italia no si continua con la manomorta delle concessioni e dei concessionari con notevoli danni anche per gli utenti che devono pagare spesso e volentieri pedaggi molto cari a fronte di un servizio sempre più scarso e spesso e volentieri un disservizio per via delle colonne per via delle difficoltà delle infrastrutture non adeguatamente manutentate come ha dimostrato più oltre ogni legittimo dubbio il caso di autostrade per l'italia prima quel crollo del ponte di genova poi con tutte viadotti gallerie quant'altro non sufficientemente manutentati che adesso bisogna fare manutenzioni straordinarie in emergenza con tutti i problemi per quanto riguarda le difficoltà di circolazione in questo contesto ci si domanda effettivamente se sia lecito prolungare sempre ad libitum le concessioni anche perché lo stato non è che ci guadagni più di tanto si all'atto della firma della concessione porta a casa qualche centinaio di milioni di euro più un contributo annuale da parte del concessionario però tutte queste soldi sono alla fin fine una solamente una quota minima rispetto al valore complessivo che una concessione genera tant'è vero che c'è la corsa da parte dei soggetti privati e anche di qualche soggetto territoriale a mantenere le concessioni nel caso di specie autobrennero e autovie venete c'è che sono realtà possedute da enti locali trentino alto adise e le province lungo l'asse dell'autobrennero nel primo caso e la regione friuli venezia giulia e veneto nel secondo si sta cercando di mantenere queste due realtà all'interno della compagine pubblica esistente c'è un problema che l'unione europea fa da terzo incomodo e l'unione europea ha stabilito che le concessioni si possono dare o tramite gara europea aperta al miglior offerente e questo visto come la peste negli occhi da parte dei soggetti titolari e uscenti oppure si possono assegnare direttamente le concessioni il cosiddetto sistema in house solo se c'è una posizione dello Stato in posizioni di maggioranza quindi il 50 per cento delle azioni dell'ente concedente in mano allo Stato e questo è un problema non da poco allora il problema nel caso di autobrennero si pone perché solamente tre giorni fa alla fine del mese di luglio è scaduta nuovamente l'ennesima proroga e non si sa ancora che fine farà gli amministratori locali del Trentino Alto Agile che sono gli azionisti di maggioranza con oltre il 35 per cento di autobrennero hanno cercato in tutti i modi di fare una società in house per poter mantenere la guida però c'è il problema del 14 per cento dei soci privati che non si riesce a liquidare perché loro chiedono troppo rispetto al valore di stima che ha stabilito la corte dei conti che al momento è una è una sommità è un valore che non è superabile che fare dunque lo sistema ci sarebbe e lo stesso Luca Zaya lo ha avanzato ci sarebbe la possibilità di utilizzare il cavallo di CAV che è la concessionaria autostradali venete la quale gestisce la Padova Venezia e il passante intorno alla Venezia passante esterno per fare da veicolo per una realtà un polo autostradale del nord est lo scenario non è del tutto non è assolutamente peregrino anzi avrebbe anche una certa lungimiranza che molti politici locali non hanno con questa struttura utilizzando CAV si potrebbe fare ad un tempo risolvere due questioni da una parte avere lo stato azionista di maggioranza e in CAV l'ANAS lo stato tramite l'ANAS è presente al 50% l'altro 50% è di proprietà della regione Veneto e dall'altra parte mettere dentro in un unico contenitore tutti quei pezzoni di concessioni che stanno venendo a scadenza senza dover fare la gara e quindi evitare di dover aprire a una gara dall'esito incerto soprattutto con la possibilità che queste concessioni possono finire in mano estera quindi portare all'esterno i dividendi che assicurano i pedaggi di questa realtà sempre ammesso non concesso ovviamente che in corner non si decida che le concessioni emanate e magari riassegnate già nel tempo vengono finalmente a scadenza e si riesca a liberalizzare queste tratte almeno per il traffico leggero ma dicevo di CAV all'interno di CAV potrebbero confluire tranquillamente sia autobrennero sia autovie venete e autovie venete e la regione Friuli Venezia Giulia a sinistra di maggioranza di autovie venete ci sta seriamente pensando poi perché le cose vengono diciamo progressivamente all'interno di CAV forte di passante di mestre dell'autobrennero e di autovie venete potrebbe giungere anche l'autostrada la società Brescia Padoa che in questo momento è di proprietà di Abertis che è una conglomerante che fa parte del gruppo Venetton e anche lì c'è la concessione che scade al 2026 ma potrebbe scadere anche prima perché quella concessione al 2026 era stata prorogata anche quella in cambio della realizzazione della Valdastico entro il 2026 però entro il 2026 la Valdastico non potrà essere materialmente realizzata e qualcuno si pone già il problema di dire non essendoci la realizzazione dell'opera per cui quella concessione era stata pensata dovrebbe automaticamente decadere anche prima del 2026 ecco che avere un CAV con dentro lo Stato in posizioni di maggioranza così come chiede l'Unione Europea potrebbe essere il Grimandello per poter andare a creare un polo autostradale i cui proventi naturalmente decisamente più calmerati rispetto alla situazione attuale potrebbero essere utilizzati sia per fare investimenti sulla rete stradale ordinaria ma anche per poter fare una logica di intermodalità per cui si gestisce con un unico con un unico soggetto la mobilità delle merci delle persone sia su strada sia su ferro troppo difficile per i nostri politici forse che sì forse che no speriamo che qualcuno la capisca intanto come vi dicevo vediamo come il nostro Domenico la Cava interpreta la situazione andiamo a vederlo la Cava utilizza come al solito l'ironia da una parte vede all'interno di una macchina il presidente della regione Trentino Alto Adige maggiore azionista di autobrennero Maurizio Fugatti e dall'altra parte Luca Zaia presidente della regione Veneto è anche fautore del polo autostradale tramite la Cava una macchina che ha sul cofono il simbolo autostrada A22 e sul tetto Zaia Fugatti con all'altro due cartelli stradali lavoro in corso da una parte matrimonio di autostradali sensi autostradali notate bene dall'altra parte lo scenario che si dovrebbe andare a creare all'interno del Cava A22 più Cava più Autovie è uguale polo autostradale del nord-est un sottotitolo Cava e Capussi Capra e Cavoli o Cavoli e Capussi cari amici vicini e lontani grazie per essere stati anche qua con questa puntata dello schiacciassassi prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi nel nostro portale più tanti siamo meglio è ci date la forza per poter andare avanti come una voce autonoma libera indipendente da parte di Stefano Elena un saluto e arrivederci la prossima puntata ciao